Questa mattina, presso la Sala Convegni dell'ospedale Santissimo Salvatore di Mistretta, si è tenuto un evento formativo organizzato dalla Will FPL, su manovre di rianimazione cardiopolmonare e di sostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, in adulto e in età pediatrica e neonatale. Un momento importante di informazione, che è stato anche l'occasione per parlare della situazione del nosocomio a Mastratino, in cui persistono situazioni di disservizio, con reparti in cui i medici e il personale sono in sottonumero, servizi che non esistono, senza dimenticare la convenzione Giglio-Asp5, sulla quale la sigla sindacale è stata sempre critica e su cui coltiva più di un dubbio. Siamo presenti oggi perché partiamo da questo territorio, da un ospedale ricadente in zona disagiata, proprio per portare sì alla formazione, ha detto bene, e non dimenticare questi colleghi che sono più lontani dal centro cittadino, dalla provincia, per cui siamo qui a portare il nostro supporto dal punto di vista formativo e CM. Cosa non va? La Will è chiaro che ha cercato di contrastare in tutti i modi che è stato il percorso scellerato di privatizzazione. È chiaro che si continua ad assistere a tentativi di privatizzazione che vanno oltre l'attuale rete ospedaliera, che vanno oltre l'attuale atto aziendale. Chiaramente i riflettori sono accesi e stiamo continuando a vigilare. È vero che il Direttore Generale ha dichiarato che c'è stato un abbattimento dei costi da parte dell'ASP rispetto a prima, grazie all'intervento del sindacato, grazie all'intervento della Will e della Will FPL. Dal 1995 si è passata al 1970, ma ci chiediamo, e per tutti gli anni in cui si è garantito in modo diverso, continueremo a verificare e a rivolgerci agli organi competenti. Non abbiamo nulla contro il privato, anche perché dà un servizio ai cittadini e questo al cittadino è quello che marginalmente interessa per avere riscontro di quelle che possono essere le assistenze sui territori. Però è chiaro che deve avvenire nei giusti modi, con le giuste proporzioni, con l'inserimento del personale, con tutte le prerogative assistenti e con la rimodulazione della rete ospedaliera.